Onestamente pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato e invece purtroppo ragazzi questo è quello che ho trovato. Volevo registrarvi un horror review per questo Halloween e quindi mi sono messo a cercare Tiffany per registrarlo con lei ma purtroppo Tiffany è morta. L'ho trovata così completamente infilzata l'ho coperta solamente perché era una scena parecchio forte però dovevo mostrarvela dovevo condividerlo con voi perché vi siete affezionati tantissimo a lei perché è stata una parte fondamentale mia vostra e del nostro canale della nostra famiglia e quindi mi sembrava doveroso dirvelo subito. Dopo sicuramente farò una piccola cerimonia a voi chiedo di mandare solamente un piccolo pensiero per lei perché per quanto fosse cattiva per quanto fosse strana comunque è sempre riuscita a farsi voler bene e quindi va in qualche modo celebrata. Ma purtroppo come in ogni situazione non ci possiamo lasciar scoraggiare troppo da questo evento e quindi il video di Halloween cercherò di farlo lo stesso. Abbiamo una nuova horror doll che mi è stata regalata in una fan mail e che spero potrà riuscire a darci anche solo lontanamente quello che è riuscita a darci Tiffany. Quindi iniziamo subito questo video. Eccoci qua dicevamo cerchiamo di non piangere ragazzi dopo toglierò tutto adesso non ho il coraggio di toglierla intanto andiamo con la nostra recensione. Allora tiriamoci un po' su di morale e andiamo a vedere lei che è questa nuova bambola che mi è stata regalata come vi dicevo in una fan mail. Scusate se ogni tanto mi commuovo ma anche la scatola mi ricorda Tiffany. Il suo nome è Kate ed è realizzato dalla V Toy. Ma cosa sta succedendo c'è fumo dappertutto. Boh comunque dicevamo lei si chiama Kate ed è la V Toy e come possiamo vedere ha questa bellissima confezione molto bella che ricorda un sacco quella di Tiffany. Guardate è veramente bellissima anche il suo viso ricorda veramente tantissimo il viso di Tiffany. Nella confezione con lei troviamo anche un sacco di accessori come potete vedere li troviamo qui c'è anche un secondo vestito proprio come era successo con Tiffany. E sul retro possiamo rivedere la marca il nome Kate quindi non avremo più Tiffany ma avremo Kate. Ma è sparita? No ragazzi dove è finita? E tu chi saresti? Scusa? Lo spirito di Halloween. Io sapevo che esisteva lo spirito del Natale non lo spirito di Halloween. Ah e cosa vuoi dirmi? Cioè faccio fatica a capirti. Ma tu non parli la lingua di Tiffany? No questo l'ho capito non mi mandi a cagare. Parla più chiaro. Cioè devo smetterla con la recensione. Perché? Cos'è successo? Aspetta non ho capito cosa stai facendo perché hai due facce quindi non capisco. Cosa? Ah mi stai indicando là. Ok. Cosa c'è là? È sparita? Ah sì ho visto che è sparita. Cosa dovrei fare? Oddio dimmi. Eh cosa devo fare? Aspetta. Cos'è? Cosa stai cercando di dirmi? Vuoi che apra questo? Sì ma non c'è Tiffany. Leggi. Leggi per piacere. Vedi fidanzato horror vuoi da aprire con Tiffany. Ancora. Non c'è Tiffany. Vabbè. Ok. Allora lo apro. Però. Ciao. Grazie. Allora ragazzi togliamo Kate e andiamo a vedere questo. Cosa devo fare? Lo aprirò anche se non c'è Tiffany. Mi dispiace ma. Boh. Eh vabbè allora apriamo questo. Anche se non c'è Tiffany e pensare che non c'è niente solo che da piangere. Però vabbè lo apriamo lo stesso. Anche questo è arrivato in una fan mail e quindi vabbè andiamo ad aprirlo. Dai così facciamo contento lo spirito di Halloween che non so da dove esca ma ok apriamo. Io strappo tutto e allora. No allora io lo guarderei da dietro prima. Ok. La confezione è meravigliosa ma io andrei a deboxarlo. Sarà una grossa fatica ma bisogna farlo. E questa è una panoramica del nostro nuovissimo bambolotto, bambolo, bambola, insomma chiamatelo come volete. Non so a voi ma a me è sembrato nel frattempo di vedere qualcosa di rosa passare ma comunque avviciniamoci. Il suo viso direi che è bellissimo. Mi piace da morire. Cos'è stato ancora? Ma io vedo la roba che passa. Boh non lo so. Cioè se la vedete anche voi ditemelo perché non lo so. Comunque dicevo che il suo viso è bellissimo. Ha questi bellissimi occhi azzurri, le sopracciglia del classico colore delle horror doll di questo bellissimo color caccarella da spinaccio. Sulle labbra abbiamo un bellissimo rossetto rosa adeguatissimo per lui ma soprattutto vedete questa sfumatura che c'è qui. Questa sfumatura secondo me è proprio voluta per riprendere il colore delle sopracciglia quindi fare anche i capelli color cacca come le sopracciglia. Ma in questo caso i capelli non sono purtroppo rutati e non sono cacca da spinaci ma sono semplicemente cacca normale. Cacca sana. Se invece lo giriamo e li guardiamo... Dio mio che cosa ha dietro? Ok da dietro vediamo praticamente il punto in cui sono fuori usciti i suoi capelli. Non vorrei essere più volgare ma sembra veramente un buco di culo. Il colore è quello, il buco è quello, la texture è quella. E in più se vediamo bene abbiamo anche qui sulla nuca questa bella sfumatura e non solo sulla nuca perché arriva fino sotto all'orecchio che sembra proprio una svirgolata da carta igienica. Bellissimo, fantastico. Un dettaglio che mi piace davvero questa volta però qualcosa di rosa è passato. Scusatemi eh. Vabbè. Dicevo un dettaglio davvero bellissimo. Ma proseguiamo e scendiamo a vedere il suo look. Anzi no, torniamo su e guardiamo il suo collo. E vediamo che è articolato al collo. E il suo co... Aia. No, questo no. E mi sa che l'ho anche sfondato. Va bene. Rimettiamogli il collo perché questa cosa non è soddisfacente. E vediamo che indossa questa bellissima camicia composta da un sacco di tessuti diversi. Non so se lo notate ma sono davvero wow. Da un lato abbiamo questa texture molto moderna con anche questo taschino che purtroppo è stato solo stampato ma è talmente realistico che sembra vero. Dall'altro abbiamo un tessuto ancora più moderno. Sembra quasi una divisa da cantiere. Il colletto è realizzato in un modo meraviglioso. E possiamo addirittura rimuoverlo tramite questo velcro sul retro che come vedete è stato cucito davvero benissimo. Ma adesso passiamo a guardare... Non possiamo guardare niente perché è rimasto nudo. Com'è successa questa cosa? Vabbè andiamo a vedere i suoi pantaloni che sono bellissimi come vedete esattamente della sua taglia. Sono realizzati anche questi in un modo impeccabile. Il tessuto è bellissimo. Il colore è fantastico. Probabilmente se li sfreghiamo faranno le scintille. E possiamo rimuoverli tramite del velcro sul retro. Velcro indispensabile perché come vedete sennò sarebbe impossibile... Velcro che ci torna utile per toglierli. Ma scendiamo a guardare le sue scarpe... Ma dio ancora perché è nudo di nuovo? Cioè nel senso no sì. Adesso è nudo sopra ma è nudo anche sotto. Le scarpe però sono rimaste. Non la capisco questa cosa. Ditemi anche voi vi prego se vedete qualcosa che passa perché io vedo solo che rimane nudo. Comunque dicevo le sue scarpe... Ma sapete che non sono male. Sono dei mucassini neri che secondo me ad un ken potrebbero andare bene. Quindi queste scarpe credo proprio che potrei anche riutilizzare... Perché? 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 Ha dieci dita dei piedi? Ragazzi ha dieci dita dei piedi? Perché dieci? Cioè dieci sì sarebbero giuste dieci ma cinque e cinque lui ne ha venti. Perché ne ha dieci per ogni piede? Per quale motivo? O forse queste dovrebbero essere le unghie dei piedi? Oddio che schifo. Andiamo avanti. Bellissimi i piedi e dicevo bellissime scarpe. Ma passiamo a guardare anche le sue articolazioni. Non c'è più. Non c'è più. E adesso io cosa dovrei fare? Non c'è più. Cosa sta succedendo? No, non c'è... No, no, scusate. No, 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 no. Tiffany ma allora sei viva! Ma sei viva! Vieni qua, lascialo in pace. Dimmi. Eccomi qua. Cosa stai facendo? Cosa c'è? Cos'è... Cioè... Cos'è successo? Come niente? Ma prima ti abbiamo visto morta. Mi sono anche messo a piangere. No, non sono stupido. Stai ridendo di me perché ho pianto? Beh, sei proprio stronza, eh. Dai, ti fre... Ma cos'hai fatto in testa? No, ti prego. Cos'è... Perché hai la coroncina? Ti stai per sposare? No, ma hai anche la collana... Ma come sei vestita? Fammi vedere. Vi prego, guardate come si è vestita Tiffany. È vestita da sposa. E si è anche messa in posa. Tiffany non pensare di essere una bambola bella, eh. Perché non lo sei ancora una bambola bella. Guardate che capelli che ha fatto. Io sinceramente penso che tu sia solo matta. Sì, matta. No, non puoi dire di no. Lo sei. Ma spiegami, ti prego, questo abito da sposa. Ti stai per sposare? Con chi? E chi è? Ma... No, scusami. Devo guardare qua. Con chi ti stai per sposare? Oddio, con lui. Ma... Tiffany! Ma non vedi, poverino, che l'hai ucciso? Ah no, è solo... Com'è stanco. Tiffany, non puoi dirmi certe cose. Non puoi... Dai, vai via per piacere. Torniamo a noi ragazzi, vi prego. Allora, riprendiamo il nostro bambolotto, il nostro bambolo. E passiamo a guardare le sue articolazioni come prima cosa. Anche lui ha un sacco di punti di articolazione. Il collo l'abbiamo già visto. Poi è articolato alla... Spalla. Sì. È articolato al gomito. È articolato anche al polso. Poi è articolato al busto, alle anche, anche alle ginocchia e pure ai piedi. Oddio, cos'è successo? Abbiamo un bambolo ballerina, però con i piedi a banana. Quindi, ok, meglio. Cosa ho combinato? Non ha più il tallone. Comunque è articolato. E poi, volevo farvi vedere una cosa. Volevo mostrarvi che gli hanno addirittura evidenziato le clavicole in questo modo iperrealistico. Ma soprattutto, ragazzi, ha gli addominali scolpiti. Oddio, ho detto addominali. Questa... Tiffany, vieni qua. Cos'è? Ti piacciono i suoi addominali? Sì, ho capito, ma non possiamo far diventare questa horror review qualcosa di non monetizzabile, santo cielo. Per fortuna che solo io ti capisco. No, no, non possiamo dire certe cose. Tiffany, dai, per piacere. Quelle cose si fanno su altri siti, non qua su YouTube, cazzo. Andiamo avanti. O abbiamo finito. Non ci capisco più niente. Adesso vado a vestirlo e concludiamo il video. Dimmi, non posso concludere il video? Per quale motivo? Perché non ti hanno ancora visto? Ma non mi interessa se ti hanno visto abbastanza oppure no. Ma ti sei cambiata? Un attimo. Ti sei cambiata? Cosa ti sei messa? Ok, ti sei messa l'altro vestitino che ti hanno regalato, con anche le scarpe, perché proprio tutto ti sei messa. Ma per quale motivo adesso ti sei cambiata? Ti sei sposata? Come ti sei sposata? Ma non ti sei sposata? Sono passati due secondi nel mio cervello. No, non sono passati due secondi nel mio cervello. Sono passati davvero solo due secondi. Hai le prove. Che prove hai? Le foto. Ah, queste che adesso mi fai vedere... Ok, adesso vediamo le foto del matrimonio. Ma Tiffany, non sono le foto del tuo matrimonio queste. Ma Cristo, non sono le foto del tuo matrimonio queste. Cioè, non sei tu. Non puoi arrabbiarti. Non sei tu. Stai calma, stai calma. Non sei tu. Sei tu. Vabbè, se dici di essere tu e io non so cosa farci. Eh? Adesso devi andare a fare shopping? No, adesso non vai a fare shopping. Dai, esci un attimo per piacere, che devo rivestire questo e finire questo video. Ed eccolo qua, rivestito. Adesso non ci resta che ovviamente scegliere un nome, perché come avete visto sulla confezione purtroppo non avevano specificato il nome. Il nome. Cosa c'è adesso? Lo vuoi scegliere tu il nome? No, non lo scegli tu. Non lo scegli tu. Mi dispiace. Ma scusami. Abbiamo sempre fatto scegliere i ragazzi che ci guardano. Adesso vuoi scegliere tu? No, mi dispiace. Se vuoi puoi dare due opzioni. Ma non lo scegli tu. Vuoi dare le due opzioni? Vabbè, che opzioni vuoi dare? No, 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 no. Una roba che inizia con C in mezzo a due Z e finisce con O e non possiamo dirla. Ok? Ma non è vero, Tiffany. L'abbiamo visto. Non è neanche il culo. Come fa ad avere quell'altra cosa? Tu lo sai. Ma stiamo degenerando. Oggi stiamo degenerando tantissimo. Di solito parliamo di cacca, parliamo di cose del genere, ma non parliamo di questo. Quindi basta. Pensa a due nomi e poi me lo fai sapere. Non ho fatto in tempo neanche a spostarti che sei già qua. Dai, allora dimmi questi nomi. No, vabbè, ma dai, Tiffany, no. Ormai te l'ho promesso. Eh, sì, appunto. Allora, Tiffany vuole che scegliate il nome tra Pierculino e Gianmerdino. Non ho capito perché, ma... Ah, ok. Uno per il colore dei capelli e uno per il culo in testa. Tiffany, stiamo raggiungendo livelli indecenti in queste horror review. Per cortesia. Come non è... È verissimo. No, non è vero. È verissimo. Dai, spostati. Ok, quindi forse possiamo finalmente concludere questo video, questa horror review, perché... Cosa stai facendo lì sotto? Ma spiegami. Ma sul serio? Ma ti sei proprio innamorata, Tiffany? Puoi anche lasciarlo due secondi? Come no? Non succede niente? Vabbè, concludiamo qua questo video, ok? Ma non portarlo via, Tiffany, non portarlo via, non portarlo via. No, ragazzi, ma capite la difficoltà? Come non c'è nessuna difficoltà? Sì che c'è, me la rendi tu difficile. Tiffany, ti ho chiesto di non... Vabbè, ragazzi, se lo vuole portare via, io non so cosa fare. Vabbè, e quindi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E buona allumin. Ma che rumore strano, cosa sta succedendo? Dai, Tiffany, ma sei proprio veramente innamorata... Oddio!